Sono ore impegnative, eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare insieme l'attuale curva epidemiologica che vedremo nel pomeriggio delle novità. Così il Presidente del Consiglio poco fa intervenendo in videoconferenza all'evento Generazione Energia. Le parole di Conte arrivano al termine della nuova riunione con i capi delegazione della maggioranza sulle nuove misure anti-Covid da inserire nel DPCM che entrerà in vigore il 4 dicembre. La volontà del Governo è chiara, non possiamo abbassare la guardia, sarà un Natale diverso ma dobbiamo evitare una terza ondata di contagio, ha detto il Premier Conte. Rimane fiducioso sull'andamento della pandemia, mi aspetto una riduzione della curva epidemiologica. Molte regioni a fascia rossa diventeranno arancioni o gialle. Poi il ritorno sui temi energetici è un elemento fondamentale del nostro programma, ha detto il Premier che annuncia il tema dei cambiamenti climatici sarà al centro dell'agenda della Presidenza italiana del G20. In precedenza il messaggio di Conte all'Assemblea nazionale di Cia agricoltori italiani l'agricoltura sostenibile sarà uno dei pilastri del recovery plan italiano.